Se noi intendiamo come condizionamento da parte del grande capitale nei confronti dell'attività politica, il problema non è il grande capitale, è l'attività politica. Se io do a un burocrate o a un politico un ampio potere decisionale, non c'è dubbio che qualcuno cercherà di influenzare quel potere decisionale. Meno potere diamo al politico, meno ciccia, meno scopo c'è per esercitare attività di manipolazione. Se invece intendiamo come schiavitù o servitù nei confronti capitale l'attività di ognuno di noi, faccio due osservazioni. Se io sono un lavoratore dipendente, io sono ben felice di avere tanta gente che cerca di sfruttarmi, perché avere tanta gente che cerchi i miei servizi per me vuol dire tasso di remunerazione, compensazione, stipendio, paga, chiamiamola come vogliamo, che aumenta. La mia disgrazia sarebbe di non avere nessuno che mi vuole o di avere soltanto uno o due potenziali datori di lavoro. Se poi pensiamo che coloro che per così dire cercano di manipolarmi hanno qualche chance di sfruttare il mio lavoro, beh, economia di mercato vuol dire avere tante possibilità. Noi non possiamo dire che in un'economia globalizzata ci sia solo uno o due o tre datori di lavoro potenziali. Se qualcuno mi dà delle condizioni insoddisfacenti io vado da un altro. Se tutti mi danno delle soluzioni insoddisfacenti o mi avanzano delle proposte insoddisfacenti, forse devo farmi io qualche domanda sul fatto che forse quello che io ho da offrire non è poi così appetibile.